mancano pochi mesi all'inizio della nuova edizione di ballando con le stelle e il programma inizia a prendere forma milly carlucci ha svelato qualche altro dettaglio sarà probabilmente ottobre il mese in cui rivedremo in onda lo show di rai 1 ballando con le stelle prende sempre più forma nonostante milly carlucci stia incontrando alcune difficoltà nel mettere insieme il cast tra i concorrenti l'unico confermato a oggi resta morgan il cantante ha ufficializzato lui stesso la sua partecipazione alla trasmissione con una lunga lettera che manco a dirlo ha scatenato non poche polemiche per quanto riguarda la squadra dei ballerini professionisti anche quella dovrà totalmente essere rivista a causa delle numerose defezioni alcune per lieti motivi per quanto riguarda queste ultime vira chinunene ornella boccafoschi hanno annunciato di essere in dolce attesa per cui non potranno prender parte alla prossima edizione dello show dall'altra parte raimondo todaro qualche settimana fa ha annunciato il suo addio a ballando attraverso un discusso post instagram se alle due ballerine in dolce attesa ha mandato i suoi più felici auguri parlando della famiglia di ballando che si allarga qualche frecciatina ha invece mandato a todaro per le modalità in cui ha deciso di comunicare il suo addio tuttavia ora non ci pensa più i suoi sforzi infatti sono tutti concentrati nella ricerca di nuovi ballerini professionisti affermando di aver già aperto i casting inoltre con ballando on the road è fiduciosa avrà l'occasione di conoscere tantissimi nuovi ballerini che eventualmente potrebbero fare al caso suo se dovessero dimostrarsi all'altezza resta tutto da vedere nel frattempo cresce l'attesa di conoscere tantissimi nuovi ballerini che eventualmente potrebbero fare al caso di